Vogliamo raccontare, visto che ci siamo tutti gli amici di Radio Bruno che stanno seguendo in diretta, la canzone com'è nata? So, ancora in Puglia, che ti ispira molto. Sì, ho messo un video da poco che racconta un po' la genesi della canzone. Mi piace allontanarmi un po' da tutto il mondo artefatto, rinchiudermi insieme a tanti musicisti, fare musica. Questa canzone è una canzone molto emotiva per me, ho cercato di tirarla fuori il più possibile sul palco e spero sia arrivata. Il messaggio più bello che hai ricevuto ieri? Allora, tanti, ti dico la verità, sia intimi, quindi da famiglia, persone care, anche da altri colleghi, amici, quindi ho ricevuto tanti messaggi e è stato bello, bello. E l'emozione è sempre la stessa, è un crescendo ogni volta che si frequenta quel palco? È sempre diversa, dipende sempre da cosa stai raccontando, cambia, muta insieme alla musica tantissimo. Questa volta è stata molto struggente per me. Senti, tanti ci chiedono, ma che cosa aveva tra le mani Irama quando cantava? Ha un ciondolo sostanzialmente? Sì, è una cosa molto mia, è una cosa che per me era importante tenere sul palco, era importante tenerla stretta tra le mani. Fondamentale, insomma, per quel pezzo lì. Fondamentale. Andiamo a venerdì, invece. Ci sarà con te Riccardo Cocciante? Leggenda. Per me è un onore incredibile avere di fianco un gigante della musica come Riccardo Cocciante. Cercherò in tutti i modi di essere all'altezza. Feseggeremo il cinquantesimo anniversario di un capolavoro, che è una sua canzone. Quando finisce l'amore, non vedo l'ora. Ci puoi raccontare qualcosa delle prove? Ti sei emozionato molto? È stato bello. Cosa ti ha detto? Beh, lui è una persona molto empatica, ha voluto incontrarmi dal vivo, ha voluto parlarmi, ci siamo visti. C'è stata una chiacchierata con lui e sua moglie, Katì, persona incredibile. Siamo stati tanto a contatto insieme. Mi racconterò anche questo, metterò un video bellissimo dove anche lui parla, si apre con me. Fortunatamente ci hanno ripreso anche in momenti più intimi, che è una cosa rarissima. Ho imparato tanto e continuo a imparare da una leggenda come Riccardo Cocciante. Un artista straordinario e generoso. Siamo in diretta, naturalmente, amici di Radio Bruno con Irama. Ricordando invece i tuoi Sanremo passati, quando eri piccolo, che cosa ti ricordi? Quale canzone? Beh, a Sanremo alla fine ci sono nato. Per me è stato il mio primo live, la mia prima esibizione al vivo con Cosa Resterà. Quindi li devo sicuramente tanto al palco di Sanremo, alle persone che mi hanno accolto un po' nelle loro vite con la mia musica. Ringraziamo tantissimo Irama di essere stato qui con noi. Grazie a voi.